Movimenti sospetti nelle ore serali ed una finestra d'altezza strada, spaccata non più tardi di una decina di giorni fa. Tanto è bastato a far scattare l'allarme tra alcuni residenti. La struttura dell'ex clinica Mondino, del demanium in concessione perpetua all'università, abbandonata ormai da anni, sarebbe di nuovo terra di conquista. E le immagini girate all'interno di alcuni cittadini sembrano confermare la tesi. Bottigliette e lattine di birra abbandonate ovunque ed evidenti segni di vandalizzazione tra le fredde sale che una volta ospitavano la vecchia clinica. Nel silenzio assordante dei corridoi non mancano segni di bivacco e in un cortile interno è possibile scorgere addirittura una Porsche impolverata ma ancora in buone condizioni. Che sia stata rubata o semplicemente abbandonata è al momento un mistero, così come resta un grosso punto interrogativo la gestione dell'ampia struttura di via Palestro, in pieno centro a Pavia, a due passi dalle scuole Carducci e Leonardo da Vinci. Se sono evidenti le tracce di recenti passaggi non mancano nemmeno quelle dell'attività ospedaliera di un tempo. Nei sotterranei si trovano ancora vecchi faldoni con dati sensibili e la corrispondenza dei medici. Ai pieni superiori il menù del giorno affisso ad una porta e l'avviso di una caposala scandiscono una quotidianità che sembra essere stata spazzata via ad un colpo, come nel più classico film post-apocalittico. Null'è dunque cambiato dal gennaio del 2011 quando un gruppo di studenti universitari aveva occupato la palazzina per denunciarne lo stato di abbandono. Ne è seguito un processo per occupazione abusiva concluso nel 2013 con 56 assoluzioni ed una condanna, ma l'edificio è tuttora abbandonato ed anche la speranza sembra aver ormai lasciato i corridoi della vecchia clinica.